Musica Hi people of youtube Welcome back to the new episode of Mario Luigi Partners in Time A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la nostra prova per vedere se Luigi era degno di entrare qui nel santuario stella E come ho detto Allora, a parte che va bene, il tubo è da 4, va bene Facciamo finta che riusciamo a fregarlo con Mario e i bambini Arrivavamo qui, chiamavamo Luigi con il tubo e problema risolto La porta l'avevamo fregata Madonna gara Allora, questa parte qui facciamo come per la volta scorsa, ovvero Ok Per un attimo ho pensato di averla distrutta Però, va bene, ce la siamo cavata Dicevo, facciamo come per la volta scorsa, ovvero liberiamo tutta quanta la zona Prima di effettivamente metterci a fare Tutto il percorso per attivare i vari attivatori E effettivamente, va bene, potevo usare il tasca tegnaccio perché Ahia Esatto, avevo paura che evocassero altri blocchi Però Oh, non so, sono sentita, tanto meglio per noi Dicevo, ci liberiamo di tutti quanti prima di azionare gli eventuali blocchi stella che abbiamo qui Soprattutto Andiamo a prendere anche tutti i fagioli che troviamo e tutti i tubi Noi ci entriamo Ok Non ho mai provato se effettivamente I nemici ci attaccassero quando non controlliamo Il personaggio che viene toccato dal nemico, insomma Perfetto, ci speravo Ok Facile Niente di eccessivamente difficile da evitare Allora, cosa possiamo usare? L'uovo bomba Proviamoci Non dovrebbe essere difficile ucciderlo Soprattutto perché Baby Gigi ha Un po' di danno extra Quindi esatto, riusciamo ad ucciderlo facile Oh Per essere un premio a gratis, De Mica male Comunque Come ho detto Obiettivo livellare il più possibile Sai cosa che mi sorprende? Forse Non mi ricordo se A livello 20 In Superstar Saga Noi avevamo già queste statistiche Ma a livello 26 Siamo già a 100 di attacco Base Senza tutti i vari potenziamenti E Mi sembra sia buono, no? Cioè Mi sembra che Questo gioco abbia un cap di livello Per livellare Molto più basso O magari mi sbaglio io Allora Questo Si attiva Di qua Va bene bimbi Allora Aspetta un secondo Posizioniamoli E tanto si tirerà dritto Quindi Ovviamente Si tirerà dritto Certo Wow Allora Aspetta Ecco fatto Vediamo Allora Qua non c'è nulla Qua C'è nulla Tessera 50 monete Ci ho sperato Un po' stupidamente Ma Ci ho sperato E ovviamente Prima di arrivare All'uscita Voglio prendere Tutti Gli oggetti Possibili Che ci sono in giro Oddio mio Uh Jeans Buffy Sembra interessante Allora Aspetta un attimo Lì tu Mi sa che è per i bimbi Giustamente Visto che questa Era una zona Solo per loro Aumentano i punti Buffy Se abbinati E giusti accessori Che vuol dire? Boh Però 37 di Buffy Mica male Stavo pensando di darlo A Baby Mario Per i punti Per i danni extra Ma Non ne vale la pena Allora Di qua è chiusa Mi sa che Qua è da dove siamo entrati? No Perfetto Allora Vabbè Ascolta Attiviamola Già che siamo qui Ah no Non l'attiva neanche Perfetto Sicuramente Sai cosa Voglio Solo Giusto un attimo Controllo Non mi sembra Di aver dimenticato nulla Però No infatti Dimenticato niente Perfetto Proseguiamo Terza Piattaforma volante Vieni Dai Ti sarebbe piaciuto Che usiamo Ascolta Anche se dovesse evocare qualcuno Chi se ne frega No Facile Forse addirittura Questi qua Nel Nel santuario stella Non evocano neanche I compagni Come facevano quelli Sul Sul vulcano Però magari Mi sbaglio io Non vorrei Dire una fesseria Oh Due addirittura Perfetto Ok Grabe tanto Ok L'importante È aver preso Il giusto tempismo Che tra l'altro Questo qua Si è tirato indietro Per fare spazio All'altro Vado Gigi Aia Eh Ho sbagliato io Dove avrei dovuto curarmi Prima di fare questa cosa Però Tanto funghi Ne abbiamo Voglio dire Che poi È colpa mia Perché sto giocando In maniera Totalmente Unsafe Totally Unsafe Sto giocando Quindi è Normalissimo Che ogni tanto Moriamo Cioè Non mi sto giustificando Però Stiamo usando Uno strumento Uno strumento potente Che è quello Della tessera Che ci aumenta i danni Dati Inferti E non abbiamo Statistiche Che al momento Ci permettano Di poter Subire Tutti quei danni O Appunto Farne in maniera Così esagerata Perché va bene Facciamo Dei buoni danni Quando li facciamo Ma Al momento Abbiamo una difesa Che Non ci permette Del tutto Di subire Tutti I danni Che ci vengono Fatti Che per carità È anche colpa mia Che magari Sai Dovresti stare attento Però Però Allora Bimbi Che cosa abbiamo Qui Ah Ok Blocchi blu Sono Cangenti Mentre il colore Di chi li colpisce Ok Sì 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 Va bene Allora Quindi Vediamo Posso fare Lo screen Ovviamente No Però io sono Furbo E lo farò L'avrei fatto Anche con un foglio Di carta Da bambino No Vabbè Per fortuna Era giusto Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Nove Dieci Undici E dodici Eccomi qua Sono il blocco stella Blink Allora Bimbi Tornate di sotto Tra l'altro Siamo quasi a 10.000 monete Di nuovo Il che Non mi dispiace E Finalmente Ultima piattaforma Ma ci sono stati pochi nemici O sbaglio Mi aspettavo Molto di più Da una zona come questa Qua userei Il tasca Tegnaccio Giusto per Ma in realtà Anche il trampolino Forse Uh è femmina Questa Non mi ricordo Se c'è qualche differenza Fra Fra Questo E quello Normale Però magari Sono estetica Però è carino Sono quei dettagli Piccolissimi Che però Ti fanno apprezzare I titoli Sono quelle Quelle stronzatine Veramente Che comunque Ti fanno dire Guarda quanto impegno Può essere che questi Sono due tubi collegati No non credo Grazie Cosa c'è qui Va bene Non ne useremo Tanti Però Fa sempre bene Averne qualcuno Da parte Poi Boh magari Lo Lo sape Dicevo Poi magari Con Con la tessera Che ci Ci consuma Quattro oggetti A giro Anche Strumenti Deboli Come questi Possono essere Molto più utili Lasciamo perdere Il fatto che Il guscio rosso È utile A prescindere Rispetto a quello verde Visto che Una volta ucciso Il nemico Passa Al prossimo E Basta Abbiamo Risolto tutto Quindi Uno E si attivano Questi due qua E noi Dobbiamo andare Ai raggi Corrispettivi Quindi in questo caso Questo qua Solo che adesso Quello azzurro Si disattiva Giusto? Esatto Quindi andiamo al prossimo Che è questo qui Solo perché era vicino Andiamo a quest'altro Che attiva quello lì Lilla Perfetto Non posso rischiacciarlo Scusami Ah ecco infatti Attiviamolo E andiamo già ad attivare Quello azzurro Così Quello là in alto Ce lo leviamo Eccoci qua Perfetto E anche questo azzurro E anche questo azzurro E' andato E ora ci rimane Solo questo Di qua Per voi Questo qui Perfetto Che uniamo A questo Che poi Riattivere No non è vero Dobbiamo attivare Quello sotto Per riattivarlo Con quello giallo Perfetto Sbloccati Ah no non è questo L'ho appena detto anche Attiviamo l'ultimo Perfetto L'ultimo raggio È questo qua giallo Che si collega Finalmente a questo Questo è un enigma stupidino Però è È fatto bene Cioè nel senso È uno di quelli facili Che apprezzi Non troppo difficile Da raggiungere Anche per un bambino E finalmente Abbiamo sbloccato Il tubo Che ci farà avanzare Entriamoci Siamo al cospetto No Ce Ce ne vuole ancora Stavo per dire Siamo già al cospetto Delle stelle E Guarda proprio Subito Adesso E no Il salvataggio Aspettiamo un attimo Prima Ah Prima avanziamo Ah Male Va bene Forse dovrei Riuscire Speravo di ucciderlo Da chi vai Speravo di saltargli in testa Perfetto E ora Tu dovresti morire Molto debole Fanno Fa danno Perché fa danno Sto schifino qua Però Con un salto Ce lo sistemiamo subito Ultrafunghi Forse È il caso Di una curatina Di darcela E Si prosegue Nel santuario Allora Che succede Qui Ah Siamo già In questa zona Illustratevi gli oculari Quello è un pezzo Della stella cobalto Wow Bello Sarebbe il nostro quarto pezzo Vero Dobbiamo prenderlo E certo E come lo sblocchiamo Non così Questo è poco ma sicuro E invece si Ho sbagliato Mi sembrava che Per ottenerlo Dovesse romperlo Qualcun altro Però forse Mi sto confondendo Pista Come Siete arrivati Qui Grazie per la ricetta Di viaggiare con l'Akitu Buona giornata Ehi ciao Finalmente ragazzi Vi ho cercato Impermari e monti Aprite le orecchie Sentite qui Per una volta Non ha nulla a che fare Con uno scoop Ascoltate Questa è grossa Ma così grossa È enorme L'astronave Mad Stava sorvolando L'isola Yoshi Quando sono caduta Ebbene Indovinate un po' Sono atterratta Sulla dritta sulla testa Di Toad e Berto Eh sì Kabum Mi è arrivata dritta Sul crapone E a quel punto Mi è tornata la memoria La memoria È da un po' Che me lo porto dietro È un pezzo Della stella cobalto Sì È un pezzo Della stella cobalto Ugale a quelli Che state cercando Se li trovate tutti Forse riuscirete A salvare il regno O almeno Questo è quello Che pensate No? Ma Ma Anche se Lo ricomponete La stella cobalto Sconfiggere i shrub Sarà impossibile Come? Volete recuperare tutti i pezzi Della stella Vero o no? Oh no 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 Fermo Noi 2000 Ecco Dammi quel pezzo Pezzoni Merda La stella cobalto Sta cercando Di comunicarci qualcosa Ovviamente È un software Per la traduzione È certo Davanti Davanti a voi C'è qualcosa Il richiamo Di un grande potere Fate in fretta Arrivo Pare che siamo Sulla strada giusta Avanti Tutto gas È come Il palazzo Di Kami In Dragon Ball Che serve Ottenere il bastone Quello che si allunga Per arrivare in cima E fare tutta la prova Di scalare il Il totem Per salire Fino a sopra Poi arriva Arrivato Goku Dopo Tutta la fatica Arriva Bulma Con l'aeroplane A terra Oppure questi Hanno i 2000 prove Tu non sei degno Luigi Poi arriva un Lakitu Che vola Ed eccoci qua Vabbè Guarda Comunque Se noi dobbiamo Fare tutto Sto passaggio qua Adesso Come cavolo Ha fatto Tu ad aberto A evitare A farsi tutto il percorso Senza Da aver bisogno Di qualcuno Che l'aiutasse Ora su Uff Pensavo di averlo fatto Troppo presto E Ma si ascolta Usiamo il trampolino Vediamo Da chi va Perfetto Ah E come ho detto Purtroppo Il trampolino È l'unico Strumento Che mi sembra Non sia influenzato Da Dal quantitativo Di danno extra Dato dalle Dalle spille O comunque dai vestiti O meglio Più che dai vestiti Proprio dalla spilla Che ci aumenta il danno Facevamo Il danno fisso Per tutti Calmo Ci ho sperato Vabbè Sono cinque Facili Facili Ma si Tascadegnaccio Facciamo Con questi Facciamo prima Che usare il trampolino Veramente Perfetto Ecco qua Questa cosa che mi avete detto Che Continuando a girare Su noi stessi Avevamo molto più tempo Per fare il tescategnaccio Mi avete semplificato Proprio la vita Con questo oggetto Perfetto Allora i bimbi Devono passare di qua Però prima di avanzare Farei La cosa semplice Ovvero Ok di qua Non ci arrivano Ah perché Ok dalla prospettiva Era tutt'altra cosa Allora bimbi Vi schiacciamo Come Fossimo Degli asfaltatori Di qua C'è un blocco Ok Aspetta Ah Troppo tardi Perfetto Aspetta Allora Dobbiamo farlo Prima che Che ritornino Allo stato normale Non voglio Doverlo rifare Per niente Dannazione Allora Con calma Stiamo Più contro il muro Possibile Ecco fatto Che poi Questo è un mini 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 Labirinto E niente Ok mi sembra Che forse Da qua Infatti Non ce la facciamo Quindi Forse quella È una via di ritorno Andiamo a prendere Quel blocco Per baby gigi Ah no Invece mi sa Che ci arriviamo Ci arriviamo E come Devo La gigatessera Ce l'avevamo già Una di queste O sbaglio Mi sembra Di sì E infatti Strumenti Infiniti Un quarto Di vita Niente di Eccezionale Insomma Allora Vediamo se ce la facciamo Perfetto Non serviva Era una fregatura Quella cosa lì Era una fregatura Non dovevi saltare Sul blocco Prima insomma Sul muretto Ok Allora No Andiamo di sotto Che magari C'è qualcosa Che possiamo Raccogliere Tipo Esatto Un fagiolo Tutto Tutto Colunci Perfetto Allora Bimbi Io credo Che voi Possiate Arrivare Con gli adulti Tranquillamente Basta Che vi fanno Fluttuare Ma molto più semplicemente Ci sarà il blocco Tubo Lassopra Quindi Però Fidarsi Scoot Non fidarsi Is better Col sol Allora Bimbi Uno Adulti Due Ecco Fatto Bimbi Arrivati Eccoci qua Allora Sicuro c'era il blocco O magari era Necessario Farla davvero Sta cagata Che ho fatto Io Niente Questi sono troppo veloci Per fare Per fargli il salto In testa Dite che c'è Che ce la facciamo Con il guscio No perché sono stupido Ed erano troppo vicini E lo sapevo benissimo Che avrei sbagliato Quindi Colpa mia Eeeh Tascategnaccio Perché si È stata Totalmente Colpa mia E lo so Perfetto Speravo di averlo ucciso Perfetto Oh Scusami Gigi Benissimo Ok Il tascategnaccio Con i blocchi È la scelta migliore Però veramente Stiamo guadagnando Nulla di esperienza Vuoi che in realtà Vuoi che in realtà Comunque In Superstar saga Si otteneva Molto più velocemente L'oggetto che ti aumentava I punti esperienza Ottenuti E quindi Magari Sai Dici Era molto più semplice Per quello Sali di livello Può essere Però Era Anche lì Un doppio rischio Perché Quell'oggetto Serviva solo Se Non prendevi danno Che per carità Magari Per uno come me Che è in Superstar saga Molta più esperienza Che Per esempio In Partners in Time Era molto più easy Ah Che è successo Ehi Ma mostro Pericolo La stella Cobalto Poi è tutto aperto Mario Il mio Disegno Il mio Disegno La risposta è tutta Nel Mio Disegno Va bene Questo qua Vediamo Srega Il disegno Le macchie Sregale Che poi Anche lì Perché Cos'è Perché È tutto È tutto Sbagliato Il cursore Comunque Cosa Nasconderà Questo lato Cosa c'è Qui Cos'è Guarda Bo È un'altra Principessa Shrub Brutta Tra l'altro Perché Nessuno Le ha grattate Prima Ste Il calcio Di macchie Ma Quello è Che è Che cos'è Eccolo perché mi ricordo che c'era il muro rotto Perché qualcuno rompeva il muro Ti combattiamo noi Ma io gli posso salire in testa a questo Non mi ricordo Ho il dubbio Però Sentiamola Allora Lo sapevo Io pensavo fossero Io pensavo fossero solo Decorativi È Mario Comunque E non Non sapevo Il timing Di quell'attacco Allora Fiore di ghiaccio On the way Ok Perfetto Il fiore di ghiaccio E i scooter Benissimo Nella stratosfera Perché 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 si è caduto a terra Ora Io pensavo fossero solo Decorativi Gli spuntoni Vediamo se Riusciamo Riusciamo Ad andare Forse Forse L'abbiamo ucciso Ti prego No Is Better Is Grande Lui Però In teoria Abbiamo ucciso La fase 1 L'abbiamo uccisa Già da adesso Usiamo di nuovo Il fiore di ghiaccio Non solo per i danni Ma perché magari Anche Lo sapevo Dicevo Anche perché Magari Riuscivamo Ad abbassagli La statistica L'attacco La difesa Quello che era Vediamo se adesso Riusciamo Ad ucciderlo Di nuovo Stava andando bene Stava andando bene Praticamente La fase 1 L'abbiamo vinta Quindi Posso dire Di essere Soddisfatto No Ho sbagliato No Già sapevo Di aver sbagliato Nel momento In cui l'ho visto Saltare Però No Vabbè Non ha senso Usare il fiore Di ghiaccio Adesso Riproviamo Col fiore clone E vaffan cuore Perché Ma l'ho fatto giusto No dai Ah ok No Pensavo Ma come Non l'ho fatto Neanche in tempo Lo sapevo Ma me la Io giuro Di essere andato giusto A tempo qua Ve lo giuro Che sono andato a tempo Me l'ha fatto Come con Bowser Che me l'ha fermato lui Ma Mi sembra Strano Perché avrebbe dovuto Boh Vabbè Magari ho sbagliato io E non me ne rendo conto Ma Mi sembra strano Perché ho fatto Il tempo giusto Abbiamo vinto Comunque Chi se ne frega 1500 punti esperienza Tessera colpo Speravo Che salissero tutti Di livello Dannazione E Che ti aumento Vabbè Per forza di cose La velocità Perché c'è solo quello Va bene 5 Sono contento Uguale Gigi Beh Se ti aumentassi la velocità Almeno sarei contento E infatti C'erano talmente tanti 6 Che se avessi preso di meno Era Era scam Però Se non sbaglio Quello è il pezzo Della stella Di Toda Berto Presumo che il mosto Che li ha attacchizzati Volesse portaglielo via Mmm Poverini Ecco Povero Toda Berto Povera Lilli Che terroro Gedia Non possiamo fare nulla Per loro Vero E per gli altri pezzi Della stella cobalto Dove saranno finiti Non lo so Eccomi Sono tornata Eccola Oh Meno male Che sollievo Vederli tornare intatti Vieni qui Dai Quindi ora abbiamo 5 pezzi Della stella cobalto In nostro possesso Secondo la mia cpu Ora dovremo riuscire Ad entrare nel castello Di pitch Avanti è tutto gas Salviamo la principessa Pidge E sconfiggiamo gli shrub Forse allora Riusciremmo a Retodificare Quei due Beh Lei non è un Toad Lei è Cupa Ma va bene Non si può entrare Vero? Non ci avevo mai tentato E infatti Non è servito a nulla Ed Ci dovremmo essere Non c'è un Fagiolo qui Vero? No Va bene Aspetta Ok no Mi sembrava che ci fosse qualcosa Che zona ci mancava Della mappa? Non lo so Scopriamolo subito Siamo Va bene Sì al castello Ma in quale zona Appariamo? Ah di nuovo Nelle fogne Ah E chi se lo aspettava? E visto che siamo qui Quanti fagiolini abbiamo? Vediamo 46 Fatto il salvataggio Noi ci salutiamo qui Quindi signori Vi ringrazio a tutti Per avermi seguito Come se avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo Al prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti